Musica Lo serese supera 2-1 in Lauras nel primo turno del triangolare playoff promozione e inizia a pensare seriamente al salto di categoria. Tribune stracolme all'Angelo Masala con l'utilità presenza di tifosi provenienti da Lauras fanno dal cornicio adeguata l'importanza della posta in palio. Lo serese parte forte. Quinto minuto. Faruni riesce a mettere un pallone al centro, destro al volo di Marco Arcadu, la palla sfera al palo. Al dodicesimo minuto lancio di Apedu, Marco Arcadu supera di forza Cugini, crossa al centro e Marcedu di testa colpisce il palo. In panchina nel Lauras c'è solo un offrio con Scano fuori per squalifica, mentre Sudinas pretende a chiare lettere e maggiore concretezza sotto porta. Il Lauras si presenta di rado con pericolosità dalle parti di Amado. Qui ci prova Andreoli, ma la palla è smorzata da Gianni e non impensidisce il numero uno di casa. Al 25esimo Antonio Fantasia, migliore in campo, prova l'azione personale e il suo sinistro dai 20 metri termina fuori. Alla mezzaro lo serese passa in vantaggio. Cugini butta giù Marcedu e si becca il giallo. Sulla punizione seguente Fraune calcia sul primo palo e trova forse la deviazione di Enrico Arcadu che inganna Pira e spezza il risultato. 1-0 Il Lauras si regisce da grande squadra e coglie subito il pareggio. Gianni commette un vistoso fallo su Andreoli e viene ammunito. Della punizione si incarica Farina che inventa una traditoria dai 25 metri di stampo brasiliano che non lascia scampo a Amado. 1-1 Il ralenti consente di apprezzare maggiormente la qualità del calcio di Farina con una conclusione praticamente perfetta che inganna il pur bravo Amado. L'Osterese si ripropone subito in avanti. Fraune mette al centro la difesa del Lauras libera sui piedi del capitano Corso che ci prova di sinistro palla fuori. Al 44esimo i gioi del blu passano in vantaggio. Fraune si procura un calcio di punizione fortemente contestato dai luresi e si incarica lui stesso della battuta. Traiettoria perfetta e 2-1 A inizio riprese il Lauras rischia grosso. In comprensione tra Farina e Marcello Marini si inserisce Arcadu che calcia fuori. Proprio dal centrale bianconero parte una delle azioni più pericolose del Lauras. Renato Marini vince un contrasto con Enrico Arcadu, scambia con Marieli doppio passo su Gianni che lo stende al limite dell'aria e rischia anche il secondo giallo che poteva anche starci. Per una volta Renato Marini dimentica di essere uno specialista da quella posizione e calcia altissimo. I pericoli per il Lauras arrivano ancora dall'auto di destra. Fallo laterale di Antonio Fantasia, Marco Arcadu si libera con il mestiere del suo marcatore ma calcia ancora alto. Al 65esimo Marieli si incunia tra le maglie avversarie e viene fermato con le cative da Malau. Dal ralenti si notta una cintura del difensore di casa ma il fallo, non ravvisato dal direttore di gara, era comunque fuori aria. Cinque minuti dopo è ancora Marieli a scattare sul filo del fuorigioco ma il suo tentativo di destra è respinto da Amadu. All'ottantesimo ci prova Marini al volo di sinistro, palla tra le braccia di Amadu. All'85esimo Marcedo se ne va sulla sinistra, Morighini lo mette giù e per lui scatta il doppio giallo e addio Gemini Pirri. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine e festa in campo e sugli spalti. Tra i più attivi c'è proprio Giuseppe Solinas che sente davvero vicinissimo un traguardo chiamato promozione. Grazie a tutti.